Madonna oh Tanto sono bagato, sono andato nel cielo, sono dentro il tornado e non muoio Tu sei veramente molto caruccio Che bello Alex, now Doveva dire la mia, doveva dire la c'è scusa Sai gatto stai zitto perché comunque c'ha ragione E per quello che l'hai insultato Bene, tornati amici Su una nuova modalità di Roblox dove viviamo dalla preistoria E poi ci evolviamo piano piano come tanti piccoli Alex Che spiegata siamo cavernicoli Si Costruendo Sta zitto però Che tu Cazzozza ti sei voluto nella strada sbagliata Sei un deviante sei Un come si chiamano E invece da noi ti è tornato un mono Sei diventato un altro da un pesce Calmiamoci però ragazzi perché qua c'è da costruire Allora prima di tutto Ho costruito delle capanne per Valeolitici Oh il cappanno Belle, grazie Ecco sto Vedete ho creato un donatore di asce Che suppongo sia una truppa Poi un fiondaio Che dovrebbe fare le fionde E ho finito i soldi Quindi non posso fare altro Fantastico Bello Però abbiamo questo signore Che vedi va a conquistare Tutto nudo con le chiappe al vento Guardate come non batte ora Bellino quello eh Trivito Oh i pestali Ora andiamo qui a vedere che cos'altro si può comprare Perché secondo me bisogna metterci un po' di soldi qui eh Eh si bisogna bisogna Si può prendere la clava Oh bellissima Possiamo fornirci anche noi? Non lo so Però sicuramente bisogna guadagnare più soldi E io direi che bisogna anche Spendichiare 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 qualcosina Perché altrimenti qui non prende il via Quindi iniziamo subito E ma guarda qui Per cento Esattamente Il 35 per cento Il creamento riguarda No te devi sta zitta Te devi sta zitta Ah bene E Alex come mai oggi non ci parli delle tue chiappe schifose? Hai ragione Lion Scusami ma ero molto intellettuale in questo momento Le mie chiappe Ti giuro ti pongo fine alla vita eh Ma no no Dopo non potrai più toccare le chiappe No le tocco io le tue chiappe No sì che le tocchi Cosa vai dicendo? No non te metterei proprio pensiero Che non c'è pericolo Escono le chat Lion Ma è come le chat Ma che no Che c'è? Perché sono ste minacce E' scritto che le tocchi Di brutto Ascolta chiediti Smentisci immediatamente Chiedi scusa Ok mi smentisco Sono solo le chat nel mio cervello Eh ecco ecco E' quello che vorrei che mettivesse No Come potete vedere però Il mio accampamento tribale Si stava sviluppando Ma che è l'alluvione universale lì? Sì di brutto Aspetta eh Andiamo a vedere se magari si può Che seguiremo Andiamo con i nostri cavernicoli A conquistare Ma che succede? Ma ci sono Il tornado Cazzamboro Sono stupidi E' fonte di noi Sono scimmie Sono andati dentro il tornado Devono conquistare Ma sono 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 come Alex Questi eh Ma no Sì Capito i fratelli Questa modalità è la tua famiglia Questa modalità è la tua famiglia rappresentata su Roblox Dovevano chiamarla così Famiglia di Alex Sono tutti cugini Vedete perché bisogna andare lì dentro nel cerchio Per domare i cavernicoli delle altre tribù Capito? Esatto ma nel mentre c'è un tornado Che spazza via tutto Ma smetterà presto secondo voi Eh sì Poi sì Guarda basta fare una prighierina Aspetta provo a buttarmi in mezzo Io mi butto in mezzo Mi butto in mezzo Mi butto in mezzo contro quello là No Mi ha accodato il tornado Non mi ha stato preso Vabbè allora sai cosa ti dico Non me ne frega nulla Continuo a costruire la mia baita Eh non me ne importa proprio Altre cappanne per truppe Poi mi metto quello delle armature di pelle Che secondo me mi rende molto migliore Guarda come sono Maci adesso Poi faccio un ingresso al museo Che ci vuole Oh hai anche un museo Eh metto un po' tutto eh ragazzi Un po' di foglie Il gazebo Il campeggio La tenda della volta Oh mazza ma guarda che roba che è diventata Ma c'è un accampamento stupendo Lion Però la tribù si è riunita E con questa discussione ha deciso Che uno tra noi Non è meritevole Di restare Ha sacrificato Sì E questo qualcuno non può essere altri che Alex Nauz Mamma mia Fuori dalla tribù In bocca Tornado Farò la mia tribù E poi ti combatterò Infame Fai quello che vuoi Appena l'hai cacciato E' andato via Tornado Hai visto E' la meraviglia Ragazzi venite Venite dobbiamo picchiare i nemici Ragazzi Bisogna guadagnare I nemici siamo noi Mi auguro di no Vieni che proviamo Mi sa di sì Eia Cazzo Però ci sono anche degli altri tribali Di altre tribù Che vanno accoppate E' lì in mezzo Dobbiamo assurarli tutti Sono nella tua squadra ovviamente Eh ci penso io Che penso io A coppare sti tribali Imbecini Oh scemo T'ammazzo Oh scemo A c***o Eh E' cattivissimo Imbecille Non ti avvicinare più alla mia tribù Sai Va bene scusa E sai cosa faccio io adesso Mi evolvo e prendo l'ascia Prendo Potrei prendere la c***o E' l'armatura di pelle Anna mettila anche tu Non posso metterla Perché è solo tua Ma com'è che ci evolviamo però ragazzi Perché bisogna capire Secondo me E' quel portale che c'è dietro di te Eh eh O il museo Magari bisogna trovare le cose Non può essere anche quello Ne devi raccogliere dieci artefatti Per evolverti Stai zitto Stai zitto lo sai Devi stare proprio zitto Allora ragazzi Lion Lo so io Guarda aspetta E' importante In alto Hai delle missioni che stai completando Se le riscatti Ti dà gli artefatti per evolvere Ma è un genio E' altro che Grazie Anna Ma te ne vai Vai al cielo Allora se la risolviamo Cammina Va bene va bene Vieni Vieni Prendi la mia clava Eh prendi la mia ascia Ah si è mordito a due Questa Ti sei fatto un limite Ti sei fatto un nemico potente Ti sei fatto un nemico potente Un nemico troppo potente ragazzo mio Ti sei fatto un nemico potente Tiriamo fuori i forconi Andiamo da Alex Guarda ti giuro Appena appena mi spunta qualcosa da comprare Più grusso e duro Ti faccio a pezzi No ti prego No ti prego Non farlo Io sono amico tuo In fondo Imbecille In fondo Molto in fondo Ragazzi Allora sto guardando Che per viaggiare nel tempo Qui al portale Come dicevo io Fin dall'inizio E non Quell'imbecille di Alex Che guarda ti giuro E' la persona più stupida del mondo Anche al paleolitico Bisogna avere 100% della base costruita E l'abbiamo fatto Ma anche questi 10 manufatti E noi ne abbiamo solo uno Esattamente E dove li troviamo gli altri? Allora tu vai fuori E pesta tutti Ok Buona idea Mi sembra Prima di te lo danno Fai le missioni Te ne vai? Dai però Prima devi usare La wooden club Per le missioni Veramente così? La mia missione In teoria sarebbe Di tagliare un albero In effetti Ora che mi ci fate guardare E fallo Quindi se dovevo proprio fare le missioni Allora le devo guardare Ti posso accompagnare a farlo? Certo amico Certo amico mio Ti porto i tronchi Puoi fare quello che vuoi Con i miei tronchi Ah che bello Sì Non come Alex Che invece si deve tenere A distanza da me Dai per favore Fammi avvicinare un minimo Un minimo Non ti si vuole No Io l'amico tuo un tempo Sì un tempo Non me lo ricordo neanche più Guarda Qua nel paleolitico Fai schifo a tutti C'è stata una riunione Di paleolitici E hanno detto tutti Che fai schifo Ma perché sono il più stupido Non potresti fare questa cosa qua Sì sì no Hanno detto che ci fai devolvere Capito Che ci devolviamo Nel contrario con te Torniamo nel mare A fare i girini La selezione naturale Dice questo Alex Quindi vai via Non ci piaci Sì stregatto A confronto È astro evoluto Guarda Io ho sbloccato Che la ruota Non vedi Pazzesco Anna tu Cos'hai sbloccato per te Io c'ho l'ascia L'ascia Beh è una tecnologia interessante Io ho sbloccato Lo smartphone Quindi super Oh mazza Potente E tu Alex Cosa che hai Io c'ho la wooden club Ma stai zitto Ma te la devi ficcare Nel c***o La wooden club I papeli ce lo farò Per te No che schifo Non voglio vedere Non è vero Oh cosa Fidati che è vero Fidati che è vero Che non voglio vedere Comunque ragazzi Stiamo raccogliendo Molti artefatti Adesso devo soltanto Accompare E che è Dumpal Ma non si può vivere Però in questa In questo mondo È terribile Dobbiamo evolverci Comunque anche voi Dovreste andare a farvi Le vostre case Secondo me Io lo sto già facendo Ogni volta che muoio Ah hai visto Che fai schifo Ma io voglio stare con te Ragazzo mio Vieni con me Stregatto Vieni 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 Allora abbiamo Tre manufatti su dieci Ma non c'è uno Shoppingamento Dei manufatti No Devi fare le missioni Che palle Mo devo accoppare Tre cretini Con la mia Vden Club Alex vi è qua Che ti fai accoppare Ti rendi utile Dai Posso essere utile per te Nel cerchio Occhio al tornado però Occhio 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 Ok Uno E gli altri dove stanno Non vedo nemici Oh le truppe di Alex Si stanno uccidendo Oh le truppe di Alex Mi hanno ucciso Ok infame Oh Non volevo Io ho pure letto Non uccidetelo Le truppe di Alex Guarda sto idiota armato di clava No è morta Copiamo pure a te Ostrom No vabbè Ma il tornado poi ragazzi Cioè passa Si sta sciottando tutti Ti strumbazza È indomabile quel tornado Non gli si fa nulla Rivado Vedo una truppa Di Anna questa doveva essere Si truppa la tutta Tanto son bagato Son andato nel cielo Son dentro il tornado Non muoio Guarda te Che diamine Allora ho preso un'altra missione Vero ragazzi Adesso devo ottenere delle monete Ragazzi ma non finiamo Ma così non si va mai Nella prossima era Io voglio amare Ma stai che ci si riesce Non ti preoccupare È facilissimo Ma non è vero Guarda devo ottenere monete Dalla battaglia E vai a me la Buttate in mezzo E me la tutti Andiamo stregatto Ma certo ovviamente Ma non è la mano Niente Aspetta volevo costruire Ma non ho bisogno di costruire Ho finito di costruire tutto Tornato il bel tempo Che bello Ah che bello Questo è l'inizio Di una nuova era Vai meno Stai zitto crepa Imbecille Con un colpo L'hai ucciso Ah guarda come Le mie orde Ma me Me incodano A me Sono sempre quella di Alex Alex ma io cerco di controllare gli dico non picchiare lion ma sono stre e comunque continuano a fare quello che vogliono sono stupide come me le armi adesso gliele toglie così si fanno codare più facilmente infatti come te che del resto eri la punta guarda mamma mia eri la punta dello scandalo nel tuo villaggio brava la punta dello scandalo era quello che volevo dire io la punta dello scandalo esatto è un punto dello scandalo si tutti che dicevano ma che schifo che fa quel troglodita la che schifo che fa quel troglodita era meglio che rimaneva un pesce hai capito o no va bene scusa adesso vado in acqua e rimango la e poi torno il pesce per colpa tua torna un girino invertebrato oh stregato batti in 5 6 ma che bello invertebrato ti ha detto non ti dice una cosa del genere stai zitto invertebrato no wow c'è valore pucci ti stiamo distruggendo a terra sei che rotoli come l'invertebrato che sei oh basta per favore stai in maniera proprio in terra va tutto lì a strisciare sto mollusco ragazzo mio pucci no dai che schifo vieni che ti devo porgere la lascia di guerra ecco vieni sporgimela toh toh ma che mi porta in testa no un'altra missione fatta abbiamo un casino di artefatti ora devo ottenere altre monete in battaglia dai accoppiamo non ti dico a battere fai tu verso dai zozzoni bravi e un'altra ce l'abbiamo quanti me ne mancheranno di artefatti ormai eto lo devi leggere qua dietro al portale mi sa che sei a sei ma eto voglio consigliare lion ma come ti permetti tu di così che imbecille lo so faccio schifo ma lion tu mi devi dare vieni qua che ti porgo di nuovo la lascia di guerra vieni qua che te la soppeso sulla testa vieni qua vieni qua soppesami toh madonna ma i tuoi sono delle bestie ma anche i tuoi sono forti ma quanto li ha potenziati guarda hanno tutte le le magliette lì cosa gli hai preparato la moda gli hai fatto la moda eh si l'hai visto sono stati modosi eh proprio modosi no lion attento capo ci arriva quello lion ti vuole è potente quello è potente ora devo uccidere nemici di livello 2 e quali sono i nemici di livello 2 ci sono i cavalieri da questa parte posate in mezzo meno sprangate prima o quale di quale lion vieni ma chi è che ci tira le piede saranno questi oh alex ma gli hai dato le fionde no ma come è possibile mi hai dato le fionde ma stai voluti cioè hai ne chiesto la fionda sparo pure alex gli hai dato le fionde ci sono certi che me le hanno la fionda ma anche i tuoi hanno le fionde i miei possono avvercere i miei no i tuoi direi proprio di no scusa sei un invertebrato anche i miei ce le hanno le fionde cioè ti ricordi che sei invertebrato o no ma di brutto e l'ho detto stregato voglio dire insomma vabbè te lo direi di nuovo se lo dice stregato vuol dire che è vero attenzione infatti ora eravamo in era preistorica bellissimo poi c'è anche l'era classica e quella medievale e quella industriale ma questa modalità è eccezionale ragazzi non arriveremo mai farò quella antica e poi mi ti ti prego mi evo eh ma c'è anche un filmato un pubabù oddio mi è fechissimo ma è meraviglioso mi sta evolvendo ma guarda come mi staglio verso l'immensità dai che voglio vedere la tua base nella nuova era ecco la quarta sai zitto che tu sei sempre paleozoico brutto idiota ho sempre invertebrato mamma mia adesso la sviluppo streg guarda ti sei evoluto più eh non ho più soldi no però si possono comprare ma c'è una spada adesso stai nel chilling zia peppina adesso andiamo qui 3500 monete 200 robux ma non c'è pericolo ragazzo mio li compro immediatamente questi sono spiccioli evolviti di più evolvo subito tutto quello e posso la popolazione la ionica diventerà sempre più evoluta dovrebbero dominare tutti gli altri allora così voglio mettere la tua sicura oh oh ma che bella sono diventata tutto ci compriamo non ho potuto comprare proprio tutto ma guardate che meraviglia che è questo posto ora che bellezza le armi in questa dell'era antica sono molto superiori perché così si equipaggiano anche i tuoi eserci che merano più forti l'arco e la pietra per prendere la pietra capito la pietra stai zitto alex e preparati alla guerra e vabbè intanto io sono ancora sopito i tuoi schifosi disevoluti verranno accoppati duramente e sai qual è la cosa più bella lion che tu pensi anche a noi questa capannuccia tu l'hai fatta per me io sono sicura grazie sì è anche scaldata dal fuoco è anche per me amico stregatto perché ce ne sono due hai visto Anna che bello che buono tutto tutto per te ma non ce ne sono tre no quella tua la diamo alle fiamme no come alle fiamme alle fiamme la diamo proprio così ma assolutamente sì ci devo morire grazie oh ma strato sta montando uno dei miei guerrieri oh ma che porco mi ha chiesto di portarmi e come ti permetti è mio scusa ma è la prossima volta che non ho permesso aia ma sta cadendo i fulmini cioè sì ho la thunderstorm attento mamma mia ma io con questo arco sono insostenibile è una potenza vai prendi me ti prendo dove sta è questo qui aspetta che c'è un imbecille è lì ellenico è molto forte quello era veramente indomabile quel signore dove è che sei fallito sto qui sto qui invece adesso ci vengo con i miei guerrieri impestami tutto ti condividi qua vai oh bella imbecille ci sono anch'io ci sono anch'io e non stai aspetta che ci sono è che sono già morta mi hanno ammazzato i tuoi eh ma ce n'è uno con la balestra e quello è fortissimo eh ti secca di brutto ma da che la sblocchiamo noi bisogna avere altri altri nove artefatti per salire di era e avere anche le armi tipo la balestra che è molto tecnologica però intanto io mi prendo l'armatura di bronzo l'elmo di bronzo e il copesh di bronzo cos'è un copesh un pesh oh bello è il mio parente su un pesh stai zitto no che nessuno ti ama cos'è ma da ma perché qual è sto copesh non ma non era un vestito no ah è questo qua il copesh ah ma è una spada strana ah perché sei qui dentro no è vero invertebrato stai a prendere un'altra delle tue brutto schifoso sei un germe sei infettoso sei orribile hai capito no hai capito è infettoso hai capito o no stai zitto è crepa germe questo copesh te pigliati un pesh in faccia imbecil il copesh aspetta che qua di nuovo la mia mi sono evoluta anch'io brava ma che brava ma tu stai giocando con l'asciugamano in testa non è vero no assolutamente no immediatamente qui Anna è ferma per tutto il resto del video sei veramente sei la peggiore di tutti sei la peggiore di tutti perché hai per caso sentito la mia assenza no perché sei ubriaca hai bisogno di una sfida cosa c'è già che sta dando fastidio e lo sto accoppando dandogli il copesh mi odio no ma ti pare guardami il copesh ciao crepa imbecille copesh sono stato copeshato si tutto a morte fino all'ultimo secondo di copesh ti sei stato pigliato oh copeshato lo vedi io ho l'armatura di bronzo ragazzo mio è immortale e sta benissimo ho anche altri soldi adesso vado a completare questa meraviglia compriamo questa cosa un paio di casette delle truppe magari anche qualcuno in più ma che bella cittadina si ti è piaciuta è diventata veramente uno spettacolo è carinissimo adesso vado un po' nel bosco e mi prendo due o tre macigni e glieli tiro addosso ad alex ma che se me c'è semo dai zitto germe hai sentito cosa ti ha detto stregatto no ho sentito germe purtroppo malattia eh no quello è brutto asteroide no cos'è quello che si schianta e stinguo i dinosauri no è colpa tua se non abbiamo più dinosauri è colpa tua non volevo lo giuro non è colpa mia è colpa delle mie chiappe bravo cosa hanno fatto eh si sono schiantate sulla terra e esplodono tutto ma come fai a saperlo così bene e non parliamo della mamma sua di quello che ha fatto nell'antichità cosa hanno fatto si è mangiata le mele del giardino dell'eden oh no che fame ne metteva due una in una guancia una nell'altra e un bananone in mezzo ma cos'era era uno scogliato una macedonia ragazzi una macedonia ehi dio si è arrabbiato ho detto ma tu cosa fai la macedonia nel mio giardino e allora ci hai mandato tutti fuori e ora a romperci le balle qua eh colpa della mamma di Alex è colpa di mia mamma grazie grazie mille quella zozza di tua madre no no porti solo a disgrazia Alex tu e la tua famiglia cosa sappiamo dire alla tua famiglia che sono tutti i germi tutti i germi siete una colonia siete dei funghi lo sei preso troppo bene stai zito stai zito è il tornado grosso e io lo schivo perché sono ma ci ha ucciso ma sei rotto ormai ormai so durissimo ragazzo mio sei potentissimo ormai sto anche continuando a fare le mie missioni adesso devo uccidere un nemico con il copesh uccidi me sarai il tuo nemico col copesh va bene adesso lo vado a prendere il mio copesh mentre i miei guerrieri continuano ad uscire con una potenza mamma mia quanto sono belli quanto sono belli questi guerrieri copesh a tutto come vorrei di non conoscere più Alex e conoscere questi guerrieri invece come chiameresti i tuoi guerrieri Alex tutti Alex ma no dai troppo eh per dimenticarmi di te capito per rimpiazzarti nel mio cuore non c'è più copeshami sì vabbè lo faccio ma così giusto perché me l'hai chiesto per pena grazie io sono onorato di essere copeshato da te va bene strevo un po' qual è la tua prossima missione Anna dove eri andata torno qui ogni volta che vado all'e mezzo il tornado mi ammazzo questo cappuccio da imbecille mi piace non tanto attenzione che io devo entrare devo ammazzare i nemici col copesh però è pieno di mostri vai scopesh Alice scopesce anche me dai vai non posso c'è il tornado strevo potevi offrirti però anche tu eh teo ma svegliati sei a giù Alex non stava aspettando altro ma Alex non stava aspettando è una di letargo però c'hanno ragione ma come hai fatto a non rispondermi addormenta la mia vita sono un mostro mi dispiace vieni Alex vieni quanto fai schifo quanto fai schifo ma come schifo mi dispiace ma perché devi fare schifo sempre non lo so ero stato bravo tra virgolette fino adesso e poi hai dovuto fare schifo guarda un po' mamma mia sono una tragedia hai fallito sei un fallito sei un fallito il mio cuore i mille pezzi sei un fallito mell'acqua peggio dei germi ancora più piccolo non so più inutile Alex lui farà anche schifo ma tu non sei meglio va bene va bene lo accetto lo accetti si è normale lo accetto ho detto e cosa volevi fare ed è il minimo che devi fare non c'hai mica un'alternativa è un po' più contento adesso che l'ho accettato io non me ne importa proprio ho detto io a tutte e due mi fate uno più schifo dell'altro no come posso farmi perdonare non puoi non puoi non puoi ormai puoi dire una cattiveria ad Alex magari mi fa ridere no mi vengo solo a far orarci ma c'è te come la tua faccia che me lo fa a vidini ah è stregato impegniamoci ma tanto la colpa del fatto che lui è un gran volcare forza ha stregato mi dispiace che mi dire ad Alex è tu affambagno sei disgustoso si capisce che sei il figlio di tua madre sarà solo una cattivella è un certo cattivo è solo una cattivella stregato non fa ridere forza mi dispiace non lo so più ho finito i termini della mia enciclopetina che inutile mamma mia fai immediatamente quello che ti ho detto sei un anfibio perché ti sei nascosto sotto l'acqua vabbè non mi vengono più riproviamo ti vede che sei un mammifero perché sei tu una scimmia dalla testa ai piedi mamma mia che pena che tristezza ma lo vedi con chi ti sei scelto di accompagnare ma fino a prima era bravo che hai chiamato a lungo amico non dovevi fino a prima fai proprio schifo fai sono proprio caduto in basso scusa non c'è perdono nel mio cuore per te mi dispiace oh finalmente no sei di nuovo stato scattuto fuori dalla sedia l'amico ma vergognati però vergognati siamo tutti cringiati per quanto sei miserabile tutti da casa è stato imbarazzante vergogna allora ascolta qua hai fatto una cosa cosa ho fatto ma Dio mio guarda veramente ci hai messo la ciliegia sulla torta dello schifo che stava succedendo ma hai fottuto la vena di rame che mi serviva che mi serviva a me sei un idiota ho cliccato per sbaglio perché non hai il cervello perché ti devi mettere le mani nel culo cosa tocchi e la lasciamo questa perché è vero tutti devono sapere quello che devi fare e non fai cioè io due ne avevo bisogno una era quella un'ora che la stavo cercando e me l'avevo trovata adesso e me l'hai fottuta e adesso devo cercarne un'altra sei una stu no non la bippiamo non la bippiamo perché è colpa di Anna perché è un imbecille mi dispiace cioè non bastava stregato che mio dio stai su secondo me secondo me cosa ho causato tutto io adesso adesso ti metti 5 dita in bocca ti metti più in fondo e mi auguro che tu te le sia lavate quelle mani sporche dopo che te le metti cosa fai tu la lioncino l'hai trovata si l'ho trovata devi stare zitta pure te che è al tempo il pupaleozoico cosa facevi la pietra facevi mi dispiace la ruota la ruota la ruota quella quadrata però facevi pure schifo come gira quella non gira non gira perché fa schifo cioè c'era bisogno di far schifo anche tu non bastava sti altri due mentecatti hai ragione tu non capisci quanto è difficile riuscire a riequilibrare l'imbecillità di noi lo so è pesante e io non ti invidio perché a volte devi riequilibrare quella di tre insieme che fatica che è stregato tu sei il peggiore di tutti ecco tieni bene quelle dita faccele macerare per oggi però ragazzi ci fermiamo ma questa mappa secondo me merita un altro video quindi fateci sapere se volete vedere un continuo dove faremo altre ere perché ce ne sono ancora per oggi però ci fermiamo e lion out ciao 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 ciao